Che mi dici? Ti voglio come vicepresidente. Io, George Bush, voglio te. Io ti ringrazio. Ma sono già l'amministratore delegato di una multinazionale, sono già stato segretario della difesa e sono già stato capo di gabinetto della Casa Bianca. Vedi, la vicepresidenza non è che una carica simbolica. Detto questo, se invece trovassimo... diverso, accordo. Se mi dessi le deleghe per cose più banali. Amministrazione, esercito, energia e politica estera. Sì, certo. Sì, mi piace. Quando ottieni il potere, devi tenerlo stretto. Sempre. Stai diventando ogni giorno più spietato. Ma noi in che cosa crediamo? Buongiorno.